Ciao a tutti ragazzi, ciao amici di Youtube, qui che vi guardano sono i Vips, Alessio e Andrea e oggi siamo qui per trattare un tema molto caldo Allora praticamente il tema di oggi è questo, ragazzi, iscritto ricambia non lo dovete fare assolutissimamente No, no Non lo dovete fare assolutissimamente perché Allora, se voi crescete con gli iscritti, però sono questi iscritti fantasmi perché poi non ti mettono né like, né commentano Che iscritti sono? Questa è tanto per avere iscritti in view, giusto? No, 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 spero non è proprio così Diciamo che, essendo che quando fate iscritto ricambia è come se voi non siete iscritti, siete tipo dei fantasmi cioè non mettete mi piace Non è la stessa cosa No, 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 così lo capiscono meglio Va bene ragazzi, non lo fate ragazzi, iscritto ricambia no Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi e restate attivi senza dire iscritto ricambia no se vi piace il canale iscrivetevi e mettete il video No, e poi ricambiamo, ma poi voi No, no, non ci dico così, sennò non ti scrivono più, perché loro si aspettano che ricambiamo Va bene ragazzi Ricambiamo sicuramente Va bene ragazzi Quindi anche per oggi è tutto La nostra ormai chiusura che ha fatto Scalpore No, dillo, dillo, ormai dillo Quindi ormai per... ormai, senza ormai Quindi per oggi è tutto Spice la notizia I vips No, dillo, 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 dillo